bella a tutti asfaltoni benvenuti su leon tube eccoci in questo video per vedere la rubrica del venerdì la nostra consigliata rubrica sulle novità di Asphalt 9 legend per switch allora va detto che non ci sono grandissime novità però vogliamo farvi vedere una novità di questi giorni che comunque è comparsa a tutti voi andando qui nel profilo delle novità vediamo che c'è il Greenland contest e in questo contesto in questo challenge diciamo bisogna fare delle acrobassie nella pista groellaglia cioè fare un post dedicato ad esse e si ha la possibilità di vincere 85 progetti per la nc venom f5 un'auto classe s forse la più forte classe s quindi si va a sbloccare la prima stella con 85 progetti qui dice mostra i due migliori movimenti nella vista della groellandia quindi non so se c'è da quando è che viene votato il miglior tempo ma qualcosa di più carino più creativo più particolare più inventivo ci dovrebbe essere una giuria specializzata che voterà i video pubblicati e poi in cinque mi sembra ci saranno cinque dai tre o cinque posizioni che venceranno bene 85 progetti per sbloccare la venom f5 e quindi in bocca al lupo se decidete di partecipare allora ritorniamo negli eventi speciali non ci sono novità perché continua lamborghini si hanno fk p37 pagani uraia per pass del compass leggendario diciamo serve il pass leggendario per fare questo e bugatti e b110 il grand prix negli eventi giornalieri nessuna novità importante per ora questi erano già stati aggiunti nei giorni scorsi è stata aggiunta la caccia all'auto elisa sprint 220 un'auto che comunque è abbastanza semplice da recuperare e però in questo modo potete accelerare la vostra collezione diciamo quindi andare a completarla nel più breve tempo possibile il riot alla rivolta delle auto della nio e p9 io sono arrivato alla seconda stella e e sono alla terza no ok si con l'altro progetto qui non l'ho nemmeno con l'altro account qui non l'ho nemmeno sbloccata e niente per chi è riuscito a sbloccarla stellarla c'è il riot dove andare a prendere i progetti epici di importazione poi ci sono sempre le stesse gare è partito l'elite classe a da fare con altre classe a e sono queste che andiamo a vedere la tech rules AT95 track version la Lamborghini Contax LP800 la Paganimola ce ne sono anche altre due che qui però non avendole non me lo fa nemmeno vedere ok perfetto passiamo al multigiocatore dove è stato di nuovo reintrodotto l'uno contro uno sempre con premio esclusivamente in crediti solito meccanismo fino a 12 vittorie per raggiungere i 250 mila crediti altrimenti premio è diciamo calante possiamo fare al massimo tre sconfitte dopo di che dobbiamo ricominciare l'auto la Pagani Waira R le fiste San Francisco Himalaya Shanghai e Osaka e quindi anche qui ragazzi buon divertimento mp2 partiamo stavolta dall mp2 invece che dall mp1 così non cambia niente ovviamente l'ordine come sempre nei premi posizioni nei premi posizioni andiamo a prendere i pacchetti carrozzeria mentre nei premi lega andiamo a prendere i crediti fino a 200 mila crediti in lega legend traguardi obiettivo sono 3000 punti e come anche per lo scorso mp2 con la Pagani Waira R potremmo andare a prendere il suo pezzo di importazione epico 50 gettoni e un po di crediti lungo tutto il percorso ci sono anche questi bei pacchetti anche se sono più per i novizi perché purtroppo sono sempre le stesse auto in questi pacchetti e speriamo presto si decidano ad aggiungere altre auto e quindi niente questo mp2 lo abbiamo visto andiamo a vedere l'auto è maxata eccola qua la Pagani Waira R maxata cioè al suo massimo in prova gratuita e senza benzina quindi possiamo divertirci a giocare questo mp2 tutto il tempo che vogliamo senza dover stare ad aspettare la ricarica delle taniche perché qui non ci sono nuovo mp1 lo vediamo subito serie mondiale fantasma quindi non ci saranno le espulsioni tra vari giocatori andiamo a vedere i premi dovrebbe essere fino a 30 mila esatto abbiamo già visto mi sembra la zembo scorriamo un attimo perché già all'inizio ho visto questi ok 25 gettoni progetti ginetta pacchetto bronzo poi via via in un crescendo di premi 50 gettoni baserati alfieri pacchetto silver 75 gettoni siamo appena i 10 mila 11 mila con 100 oggettoni lamborghini aumentato al pacchetto platinum con dentro chevrolet lamborghini e maserati si va a salire verso il pacchetto legend trovando tanti credit 200 oggettoni ai 22.740 punti kit carrozzerie e poi andiamo a prendere la fennier infatti ho detto mi sembrava la zembo ma non ero convintissimo comunque due progetti della fennier aveva quasi 24 mila punti pacchetto legend quindi con la fennier oltre al cevrolet lamborghini che però sono auto abbastanza facile da trovare e poi come ultimo spessa importazione di una delle auto che possiamo trovare nei pacchetti quindi si parte dalla vento d'ora sv cupè cevrolet grassport la fennier il super sport alfieri ginetta andiamo a vedere i premi premi posizione nei primi 3000 un progetto della fennier e 10 gettoni due progetti a 20 gettoni per quanto riguarda i primi mille qualificati oltre al pacchetto di passi importazione poi dai 500 in su si va a salire anche con i premi fino ad arrivare al premio della prima posizione con 60 progetti per la fennier e ben 150 gettoni oltre a 15 pacchetti dei kit ok quello che ci rimane ora da andare a vedere in questo aggiornamento sono le missioni dell'episodio 6 e tra l'altro potrebbe essere l'ultimo perché non ci sono altri episodi dopo la stagione termina comunque tra due settimane quindi avremo una settimana senza missioni allora sono tutte abbastanza semplici qui già ne abbiamo fatte quattro facendo alcune partite eseguito un denitro in una singola corsa 7 non eseguire nessun salto in una singola corsa apri pacchetti di carte raccogli tanniche nitro in una singola corsa queste sono quelle fatte ovviamente per fare le sette onde nitro in una singola corsa come vi diciamo sempre una volta che abbiamo carico la barra della nitro la spariamo e la fermiamo la facciamo ricaricare col drift spariamo di nuovo la nitro e questo via per sette volte quindi si fa anche nel giro di poco esegui avvitamenti nel multigiocatore perfetto qui dobbiamo fare multigiocatore con un'auto di classe bc o s quindi va bene anche un multiplayer 2 e fare 10 avvitamenti non è specificato in una singola gara quindi quando vogliamo arriva primo negli eventi tempo di vacanze con la ventri continental gt speed questo è l'evento giornaliero lo andiamo a vedere che servirà anche per altri eventi non è questo è tempo di vacanze quindi questo qui a fianco questo qua tempo di vacanze le auto con cui possiamo farlo sono tutte queste quindi renault desert ferrari monza ventri continental per l'appunto mclaren bugatti pagani e l'altra bugatti quindi avete visto come andare a fare in modo abbastanza veloce questa missione qua andiamo a vedere le altre distrugge oggetti in una singola corsa dell'evento giornaliero perfetto anche questo potete farlo in quella pista lì 25 sono molti quella è una pista abbastanza lunga quindi è possibile farcela e se non ce la fate se non ci si fa bisogna aspettare altri eventi giornalieri che ogni giorno cambiano qui ci sia una pista abbastanza lunga che abbia poi abbastanza oggetti durante il tracciato lungo il tracciato però è abbastanza semplice da fare esegue espulsioni in una singola corsa anche qui possiamo farla ah no qui nei caraibi quindi non in qualsiasi posto ma nei caraibi e se non erro mi sembra che sia proprio fuggi dall'afa no fuggi dall'afa era groenlandia e quindi dobbiamo trovare una corsa nei caraibi o negli eventi giornalieri o nella carriera se non dovessimo trovarla altrimenti va bene anche nel multigiocatore quindi quando vi esce ok il multigiocatore forse è un pochino più difficile fare le espulsioni però ci si può provare sempre ora comunque andiamo a dare un'occhiata esegui 360 in una singola corsa nel multigiocatore ok qui in una singola corsa bisogna fare 6 360 non consecutivi quindi in tutta la gara e possiamo farlo con molta calma completa corsa nei eventi giornalieri perfetto non c'è da aggiungere altro esegui espulsioni con 360 in una singola corsa di un evento tempo di vacanze Ferrari Monza SP1 arriva primo negli eventi tempo di vacanze con la Pagani Waira R quindi queste sono 6 missioni da fare ma sono abbastanza semplici il tempo di vacanze è quello che abbiamo visto prima eccolo qua la pista qui non è i Caraibi ma forse è qui i Caraibi eh no qui no il Cairo anche qui qui non è ok la troviamo ad esempio qui i Caraibi nella corsa dei crediti di oggi quindi si può fare tranquillamente qui in questa corsa andare a fare le 5 espulsioni e ovviamente potete provare a fare anche tutte le altre direi questo video di chiuderlo qua se vi è piaciuto mi raccomando un bel mi piace condividetelo con i vostri amici nei vostri social non dimenticate di lasciare un commento e come sempre se vi va vi invitiamo a iscrivervi al nostro canale non dimenticate di cliccare la campanella per continuare a seguire i nostri aggiornamenti ciao a tutti